e la serata volge quasi al termine ma ci sono i momenti più caldi adesso finalmente un altro incontro molto atteso qui si combatte per il titolo della settantasette chilogrammi entra nella gabbia con un record personale di quattro vittorie un pareggio e una sconfitta Giuseppe Virus Tivolesi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, è fresco vice campione europeo di Brazilian Jiu Jitsu, è un atleta con molta esperienza. Stasera si affronta in uno dei match più attesi con il grande ritorno di Carlo che presenterò a breve. E ricordiamo che questi incontri sono validi per la cintura, in questo caso dei 77 kg. Grazie a tutti. 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 Carlo Pedersoli Jr., Kung Moon Studio. Grazie a tutti. 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 giuro è scopo, giuro è scopo, giuro è scopo, girano da un altro lato e poi il gioco è scopo, giuro è scopo, giuro è scopo, giuro è scopo, giuro è scopo Grazie a tutti. 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 Gianluigi, Fabrizio, Fabio, tutti. Vi voglio bene. Grazie, grazie Carlo. Complimenti. Grande Carlo, Peter Solly Junior. Una splendida vittoria. Un ritorno in grande stile. Sì, purtroppo, purtroppo a questo sport...